Questo programma contiene linguaggio volgare e riferimenti sessuali espliciti. Vuole sapere cosa sta succedendo tra te e Tamara? Niente. È finita. Sono deluso, ma non mi sorprende che Tamara abbia già deciso di chiudere con Craig. Tamara ha detto che voleva vedere se c'era qualcosa che le piacevi. Se non provo a far funzionare le cose con Craig qui, fuori non avremo futuro, non avremo niente. Questa è la mia unica occasione. E poi ci ha messo solo due giorni. A fare cosa? A mollare. A mollare? Insomma, ha fregato me come ha fatto con voi. Ho fatto l'errore di fidarmi di Tamara. Ha detto che le piaceva Craig, che lo voleva davvero. E io le ho creduto. Da un momento all'altro, credo che circa 30 modelle svedesi entreranno qui e attaccheranno noi uomini. Sarà dura, ma niente panico. Vi proteggeremo noi. Signori, ci sono troppi uomini in questa villa. Purtroppo, quindi, due di voi usciranno stasera, ma tu, Callum, sei immune, quindi... Sono immune? Esattamente. Tu resti qua. E andiamo, sì! La decisione dovrà essere basata su chi ha meno probabilità di trovare l'amore. Signore, la decisione spetta a voi. Prego, raggiungete la zona divano vicino alla piscina per deliberare. Eliminare due uomini è davvero crudele. Sarà sempre più difficile, vero? Siamo come una famiglia, ora, quindi... Sì, due è un numero piuttosto pesante. Sì, sì, è bello pesante. Ci sono otto ragazzi. Sappiamo chi ha relazioni con chi. Sì. Penso che sia chiaro che Jared e Joel siano distanti da tutti. Certo. Finn? Finn, no. Penso che voi due vi stiate ritrovando in un modo davvero fantastico e dovete continuare. Sì. Poi abbiamo Loki. Craig. James. James. E Joe. Due persone che sono arrivate fino a qui. Questo è triste. Mi aspetto che salti fuori anche il mio nome stasera. Io e Tamara avevamo qualcosa e con Jess siamo proprio all'inizio. Quindi, tecnicamente, non ho nessuno adesso. Io penso che Joe dovrebbe rimanere perché ha mostrato interesse per delle persone. E penso che possa ancora dare qualcosa. Forse. Forse mi sbaglio. Ma penso anche che se qualcuno dovesse provarci con lui, potrebbe essere un bene per Joe. Sono abbastanza sicuro che qualcuno l'abbia già fatto. Craig, tu hai rotto con Tamara proprio oggi. Letteralmente oggi. Il tempismo è davvero sorprendente. Quindi, nessuno lotterà per me stasera. Oggi alla fine ho rotto con Craig. Vorrei vederlo trovare l'amore nella villa. Ma è una cosa davvero possibile? No. Oh, brutale. È difficile. Io non voglio... Non voglio mandare via James stasera. Io credo che James abbia in testa solo due persone con le quali potrebbe potenzialmente avere una storia. Se anche qualcuno si facesse avanti, lui sarebbe pronto? Riesco a spiegarmi? Mi sto divertendo. Faccio lo scemo. Malamore. Io non ho niente. Mi piace rimanere positivo in queste situazioni, ma mi sa che sono f*****o. Per me è difficile con Loki. Forse perché sono molto amica di Yaz e... Sicuramente. Penso che in questa scelta non possiamo tener conto delle nostre simpatie. Dobbiamo solo pensare a chi non ha alcun tipo di relazione. Non è una decisione facile. Stiamo considerando i pro e i contro e... È dura. Siamo tutte d'accordo? Sono d'accordo. Sì, siamo d'accordo? Sei d'accordo? Siamo d'accordo? Io non dico niente. Vado io. Da quando sono qui, ho avuto occhi solo per Tamara. Ora che è finita, mi sento piuttosto vulnerabile. Potrei essere nei guai. Potrei dover uscire stasera. Sapete bene che questa è comunque una decisione dura per noi ragazze. I rapporti che costruiamo qui sono forti. Ma dobbiamo basarci su chi ha meno chance di trovare l'amore. E noi abbiamo scelto... Tutto... 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 Grazie a tutti